Sintesi per andare oltre, conservare per superare e superare per conservare. Questo è il compito che bisogna fare oggi. Ciò che richiede una visione delle cose, una teoria, un dialogo tra persone che abbiano la volontà di studiare, di appassionarsi, di combattere. Perché Antonio Gramsci diceva non soltanto organizzatevi, studiate, abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza, studiate. Intendeva Gramsci che bisognava chiudersi in biblioteca per non uscire più? Niente affatto. Intendeva Gramsci esattamente dire il fatto che solo dove vi sia una teoria, una comprensione della propria posizione nel mondo, si può anche dare una progettualità politica, che è quello che è mancato. Credo che se oggi siamo qui a riorganizzare la nostra partenza sia dovuto al fatto che non tutti hanno colto questo aspetto. Alcuni hanno preferito l'immediatezza della furia del dileguare della prassi politica immediata senza riflessione. Altri hanno preferito le lusinghe dei colossi del centro-destra bluette del centro-sinistra fucsia. Altri hanno preferito sciogliersi in realtà single issue. E questo è un bene, badate, è un bene quando si fa chiarezza. Diceva Hegel nella Fenomenologia dello Spirito che quando un partito si scinde si sta rafforzando perché supera la contraddizione in sé e va oltre. E quindi è un momento di autoconsapevolezza importante che segna una maturazione. Ora occorre una teoria, dicevo, e occorre una prospettiva. Quello che noi proponiamo è una rivoluzione non soltanto politica, come certamente è, ma anzitutto culturale. Non può esserci una forza rivoluzionaria senza una teoria rivoluzionaria. Non può esserci un cambiamento delle cose se non si conoscono le cose, se non si conosce la realtà fattuale e la realtà che vorremmo sostituire a quella fattuale. Con questo non intendo che debba prodursi a tavolino una realtà già fatta da sovrapporre a quella esistente, cancellandola magari. Si tratta di procedere strada facendo, in itinere, di comprendere i rapporti di forza, di comprendere quello che accade.